a questo mi causa quello che vuole fammi registrarne una così vediamo se te va bene va no 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 Rodolfo non va bene ci vuole più riverbero dovrebbe essere come un eco Arino se vuoi più eco bisogna che te va a registrar Gran Canyon Arino mio così non possiamo andare lì ma lo sai quanto mi costa lo studio ogni ora che passa? certo Rodolfo c'ha ragione che bisognerebbe trovare un posto con un'acustica perché lo studio è troppo neutro che ne so un corridoio uno stanzone le scale non lo so ma lo senti questo va a portare il pianoforte sulle scale fate come volete basta che uscite da sto studio chiaro va bene allora prendiamo sto pianoforte forza ragazzi bisogna fare qualcosa dai andiamo anche te Rino anche te dai allora cazzo ma questo lo sa davvero quello che vuole oh ragazzi dai venite su a prendere gli strumenti che faccio i collegamenti dai corsa tu forse non essenzialmente tu un'altra ma è meglio fossi tu tu forse non essenzialmente tu hai scavato dentro me e l'amicizia c'è io che ho bisogno di raccontare io la necessità di vivere rimane in me e sono ormai convinto da molte lune dell'inutilità irreversibile del tempo mi sveglia le 9 e 6 decisamente tu e non si è il tempo di vedere la mamma e si è già nati e i minuti rincorrersi senza convivenza mi sveglio e sei decisamente tu forse non essenzialmente tu e la notte confidenzialmente tu cercare l'anima